Ci di coppia dei campioni abbiamo l'onore, l'esclusiva di presentare due grandi del calcio italiano proveremo a riappacificarli dopo le ultime vicissitudini dell'ultima partita disputata tra Inter e Fiorentina abbiamo qui due grandi ospiti, abbiamo il mister Luciano Spalletti e Fabio Caressa, noto giornalista tv partirei subito dal mister, ciao Luciano, vuoi dire qualcosa sulla vicenda? volevo innanzitutto chiedere scusa a tutti i tifosi, dispiace quando accadono certe vicende e volevo chiedere anche scusa a te Fabio per come mi sono comportato in trasmissione, dispiace ma no Luciano vai tranquillo, ci conosciamo da 20 anni ho detto solo che hai frainteso, il primo era rigore, il secondo no è solo che potrebbe essere, e potrebbe essere che? e potrebbe essere, e potrebbe essere, e potrebbe essere e ancora? è chiaro? è petto, netto, tutti lo abbiamo visto, 40 giocatori in campo, tutti lo hanno visto era netto, e potrebbe essere che? potrebbe essere ma no Luciano ci conosciamo da 20 anni, no 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 no, non ho detto questo, no no e che potrebbe essere allora? e qui c'è in gioco la carriera di un allenatore, un grande allenatore e qua sono punti importanti, regalati ma no Luciano, stai tranquillo, abbiamo solo detto che il primo era rigore, il secondo no e qui la carriera di un allenatore dove la mettiamo? e potrebbe essere e qua le parole bisogna stare attenti, poi se uno tifa altre squadre e Fabio sappiamo che tu ti fila Roma e ai tempi non mi facevi questi tranelli in trasmissione, davanti alle persone che poi si mette in testa cose ma no, ma no, ma quali squadre? quali squadre? no no Luciano Luciano ci conosciamo da 20 anni, ti stai confondendo io poi vorrei dare spazio ad un altro allenatore, c'è Conte lì in attesa che dispiace anche non vederlo allenare ah, ha pure, è saputo dove andate tu e Conte? eh? affam e fermiamo la trasmissione fermiamo la trasmissione ci abbiamo provato, hanno fatto pace complimenti, due grandi personaggi e alla prossima puntata del strano amore di Coppia dei Campioni grazie grazie agli ospiti ciao Luciano e ciao Luciano che? potrebbe essere ciao potrebbe che forse non ci rivediamo se mi cacciano no Luciano non fare così ci vediamo tra 20 anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti